Da oggi la fotocamera del tuo smartphone non servirà soltanto per scattare foto. Con Mediolanum Wallet puoi pagare la bolletta in scadenza semplicemente fotografando il codice del bollettino. I campi del pagamento si compileranno automaticamente in pochi istanti. Controlla che la compilazione dei campi sia corretta e autorizza il pagamento. In due semplici passaggi il bollettino è già pagato. Puoi anche effettuare il pagamento di MAV e RAV senza uscire di casa. Operazioni veloci e visibili in tempo reale. Scopri di più su MediolanumWallet.it e guarda le altre funzionalità. Banca Mediolanum, costruite intorno a te.